Grazie a tutti. Oggi vi parleremo dei percorsi, i laboratori didattici organizzati dal comune di San Benedetto Po. Con me c'è sempre Matteo Bursi, mio compagno di viaggio, accompagnato però da una sorpresa. Hai visto? Da Colombina. Questa anticipa direi il tema, assolutamente, è un'agraditissima ospite che potrà essere anche come dire patrimonio mantovano tucur, ma oggi la adagiamo a San Benedetto perché di San Benedetto parliamo e commenterà. Lei è autonoma, vedi come fa, commenta, fa... Ci pensi tu per la voce? La voce non sono ancora pronta, però magari le nostre ospite mi potranno aiutare. Ci aiutano. Allora andiamo a presentarle, con noi c'è la sorella cultura del comune di San Benedetto Po, Vanessa Morandi, benvenuta. Grazie. E l'operatrice didattica, scusate, della cooperativa Carta, Arianna Maiocchi, benvenuta. Grazie. Ormai amiche di sei a casa direi, no? Esatto. Assolutamente affezionatissima la trasmissione, tanta l'offerta che San Benedetto propor. Eh sì, davvero, davvero tanti percorsi e i laboratori didattici, dicevamo, che spaziano in diverse tematiche. Esatto, sicuramente. Per noi è importantissimo che la didattica rimanga così attiva e operativa, come ormai dal 2004, se non ricordo male. Quindi sono moltissimi anni che si cerca di dare spazio a questa attività fondamentale, perché rende veramente fruibile il nostro patrimonio. Questo è l'anno 2018, è l'anno europeo del patrimonio culturale, no? E quando sono così, ho partecipato ai primi convegni, tutti dicevano l'importanza di rendere più fruibile quello che è il patrimonio, cioè che non rimangano oggetti che prendono polvere all'interno di musei dove saltuariamente qualcuno passa, ma che invece diventino luoghi vivi, luoghi vissuti e che il patrimonio sia più fruibile, soprattutto dalle nuove generazioni. Sicuramente questo è quello che noi facciamo ormai già da almeno una decina d'anni, dove questi percorsi didattici consentono la fruizione vera e propria del nostro patrimonio culturale. Questa è la sfida dei grandi comuni di oggi sicuramente e di chi ha grandi patrimoni. Il polirone, il museo civico polironiano vuoto non avrebbe un senso nel futuro, nel presente, come invece i percorsi riescono a riempire, riescono a dare appunto, mi viene a dire proprio un senso, una traiettoria dell'oggi verso il domani. Esatto, ed è proprio quello, il guardare verso il futuro e quindi partendo dalle nuove generazioni far sì che anche loro si facciano carico di quello che è il nostro patrimonio culturale e attraverso la conoscenza del patrimonio culturale capiscono e comprendono anche quella che è la loro identità vera e propria e avendo radici forti si sa si cresce meglio in questo modo. È una bella metafora quella. Questo è sicuramente l'obiettivo. Oltre ai percorsi speciali per le nostre scuole attraverso diciamo quello che è il supporto del piano di diritto allo studio, quindi vengono offerti dei percorsi particolari per le scuole di San Benetopo a partire dal nido, dove sembra strano ma anche il nido in realtà partecipa a quello che è la conoscenza del proprio patrimonio, fino all'Istituto Superiore Strozzi che viene e fruisce magari di alcune potenzialità dei nostri percorsi. Continuità assoluta, ognuno ha veramente una sfumatura diversa naturalmente e appunto tornando alla nostra gratissima ospite questa è rappresentazione stessa forse meglio di altre del patrimonio di cui parliamo, quindi tradizione chiedo ad entrame, tradizione e coinvolgimento perché comunque è divertimento per i più piccoli sicuramente lo è, ma è anche appunto rappresentazione di parte del patrimonio di cui parliamo. Arianna? Allora, diciamo che quando si tratta di muovere marionette burattini ci affidiamo alla super competenza di Giorgio Gabrielli, infatti il percorso che c'è nella bottega del burattinaio viene svolto da lui, viene proprio svolto nella sua baracca e quindi i bambini e i ragazzini sono veramente coinvolti. Ti vorrò dico subito, non si offende a nessuno a casa, io lo sto solo tenendo in mano per far vedere, non sono in grado di replicare l'arte che invece è un'altra storia. Esatto, esatto. Invece noi operatrici ci dedichiamo più che altro a far vivere un po' il museo, partendo dalla sua storia, dall'antichità, da Matilde Icanossa, dai monaci, dagli amanuensi, quindi tutto quello che è un po' il percorso storico del nostro museo, fino ad arrivare ai percorsi etnografici dove letteralmente facciamo fare il burro ai più piccoli, facciamo preparare la farina, quindi tante competenze che vengono messe tutte assieme a seconda dell'età dei nostri partecipanti. Che bello! Hai visto, Andrea, che bellezza questa puntata! Come si può partecipare ai vostri laboratori? Vado io? Sì, basta rivolgersi all'info point di San Benedetto Po o anche attraverso, ci sono tutte le informazioni anche sul sito del Museo Civico Polironiano che è www.museocivicopolironiano.it e lì fare la prenotazione rispetto al periodo preferito. In realtà lavoriamo tutto il tempo dell'anno, a partire dall'autunno fino all'estate compresa perché poi la scuola finisce ma iniziano i cred, quindi tutte le fere. Le fere non ci sono per le nostre operatrici e questo consente anche nei vari periodi dell'anno poi di valorizzare quelli che sono i percorsi, come diceva Rianna, etno-antropologici perché permettono di andare attraverso lo spostamento dei materiali anche che ci sono delle collezioni del museo, soprattutto degli oggetti, far capire che il lavoro magari della civiltà contadina cambiava durante stagioni diverse, ci sono attrezzi diversi esposti, quindi tutta la valorizzazione di quello che è la collezione della civiltà contadina dai carri fino agli attrezzi. E poi invece in quel caso si tratta del percorso che riguarda il teatro di figura popolare che permette di valorizzare quella che è tutta la collezione di burattini e marionette che è la più grande di Regione Lombardia, una parte appartiene a Regione Lombardia che è custodita proprio in galleria e nei depositi del nostro museo. Quindi tantissime tematiche, tanti modi diversi di permettere alle scuole di fruire proprio di questi percorsi, di questi pezzi, ma anche dei beni immateriali come può essere la trasformazione del cibo o piuttosto che la fiaba, per esempio, quindi il discorso dell'immateriale. Come patrimonio culturale però è giusto sottolineare, non molti mantuvani lo sanno, lo sanno che il possedimento maggiore in Regione Lombardia di questa arte, quantomeno a numero di burattini, sta appunto in casa, a San Benedetto. Come giunta, adesso poi passiamo anche ad Arianna, però un passo indietro politicamente è una responsabilità, immagino, e contemporaneamente anche credo un vanto laddove è perseguito il riuscire a garantire questa offerta che, come dicevi prima, va dal nido sino ai percorsi più alti formativi. Quindi l'impegno maggiore forse dell'ambito culturale è questo? Eh beh, sicuramente è, diciamo, la parte che per quanto riguarda il mio mandato è più impegnativa in assoluto, il fatto di rendere proprio fruibile quello che è un museo così grande che si trova all'interno di un complesso monastico, quindi un complesso museale che ha tante sfaccettature, non si tratta solo della collezione di teatro di figura popolare, e quindi il festival che poi magari facciamo a maggio per valorizzarlo anche ad un pubblico diverso rispetto a quello scolastico. Ma abbiamo il complesso monastico intero, quindi insomma una valorizzazione che va costruita pezzo a pezzo sotto tutti gli aspetti. Eterogeneo come patrimonio, come bene, è tra i più complessi al suo interno. Un altro percorso che ci piace ricordarci è il giorno al Polirone, perché non soltanto stiamo tra le nostre mura all'interno del museo, ma organizziamo delle collaborazioni con i caseifici, gli impianti di bonifica e le aziende agricole, in maniera tale che i bambini possano fare anche un percorso magari la mattina, un po' più incentrato con un focus specifico, e al pomeriggio dedicarsi magari a un'attività per scoprire il museo e magari un'attività attinente. Ma so che hanno visto anche la mattina. Calendario ricco Angela, adesso qui stiamo vedendo in onda appunto qualche immagine del museo e della piazza San Benedetto, di cui appunto abbiamo capito essere il nucleo centrale dell'offerta culturale del comune, ma immagino che anche l'offerta vada ben oltre i confini di San Benedetto. Sì, nel senso che comunque si copre un po' il territorio, un territorio dell'oltrepò, ma poi le collaborazioni sono anche, non so, con i viaggi sul fiume, con le navi, quindi... E la partecipazione stessa immagino sia altrettanto variegata. Sì, sì, sì. Fin da dove arrivano bambini o... Beh, allora, abbiamo scuole che arrivano dall'Emilia Romagna, arrivano dall'Alta Lombardia, abbiamo delle scuole affezionatissime da Bolzano, che quindi continuano a venire ogni anno dal Veneto, per cui, insomma, tutte le regioni limitrofe sono, diciamo, buon vaccino, ecco, per poter fruire del nostro... Per tenerlo sempre più aperto, il museo civico. Come si dice in veronese, Angela? Puoto. 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 Avete dei puoti, insomma. Proprio una parola dialettare. Esattamente. Aggiungo solo una cosa, per quanto riguarda un giorno al Polirone, quindi la giornata intera che copre anche i beni naturalistici e oltre, no, del nostro territorio, abbiamo la possibilità di una sala riscaldata, quindi chi si vuole fermare a pranzo, a volte le classi sono un po' in difficoltà, le scuole sono in difficoltà a stare via una giornata perché poi non c'è il luogo dove fermarsi in caso di maltempo. Invece in questo modo possiamo sopperire anche a questa necessità, ecco. Ebbene, quindi siamo in chiusura, ricordiamo come mettersi in contatto con voi, anche dove visitare, dove poter avere, insomma, maggiori informazioni in merito a questi percorsi che ci avete descritto oggi. Allora, il sito è il sito del nostro museo, è www.museocivicopolironiano.it Ebbene, grazie mille quindi a Vanessa Morandi, Assessora alla Cultura del Comune di San Benedetto Po e a Rianna Maiocchi per essere state con noi. Vi portate via... Eh, salutiamo Colombina! Salutiamo Colombina! Matti 5, tra... Viene da te, viene da te, pian piano arrivo da te, eccola qua, eccola qua, meraviglia televisiva. Grazie a tutti. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco. Grazie a tutti.